Aumentano i casi di contagio da Covid-19. Nel napoletano molti sono i comuni che ogni giorno registrano un aumento importante di positività sul territorio. È il caso del comune editore del Greco che ieri ha registrato 14 nuove positività al Covid-19, di cui una è il regime ospitaliero e le altre 13 in forma sintomatica. Quindi sono in totale 78 i contagiati da coronavirus nel comune Corallino. Altri 8 cittadini positivi sono stati registrati ieri a Castellammare, tra cui anche un bambino di 9 anni. Da diverse settimane ormai si moltiplicano i casi di coronavirus nella nostra città. La preoccupazione è tanta. Oggi più che mai è fondamentale rispettare le regole in modo impeccabile, ha affermato il sindaco Gaetano Cimmino. Nel comune di Portici un dirigente comunale è risultato positivo al tampone e in questo momento si trova in isolamento. Il dirigente sta bene, ha affermato il sindaco Cuomo, ed è totalmente privo di sintomi. Dalla mia abitazione, Smart Working, continuerò a lavorare incessantemente per la nostra città, in attesa che, terminati i giorni di isolamento, possa tornare fisicamente tra voi. Sono 27 cittadini di Bosco Reale positivi al Covid-19, a comunicarlo il sindaco Antonio Diplomatico che aggiunge. È un dato sicuramente elevato, ma ancora contenuto rispetto ad altri comuni. Rinnovo l'invito ai cittadini di rispettare rigorosamente tutte le ormai note misure igienico-sanitarie e auguro ai contagiati una pronta guarigione. Intanto restano 72 casi di contagio nel comune di Ercolano e 68 a Torra Annunziata. I sindaci pertanto invitano tutti i cittadini a mantenere comportamenti irresponsabili.